A due settimane dal progetto definitivo del digestore presentato da Green Factory nella sede pesarese di Marche Multiservizi, il nuovo impianto di compostaggio di gestione anaerobica è stato oggetto di dibattito pubblico nell'impianto sportivo Palacampioni di Padiglione di Tavuglia, uno dei territori, assieme alla Piana di Talacchio, che vivrà maggiormente da vicino la presenza del prossimo impianto dedicato allo smaltimento dei rifiuti organici. Più di un centinaio i cittadini presenti a Padiglione, molti dei quali hanno accolto la prossima realizzazione dell'impianto con toni accesi e poco concilianti. Finalmente dopo un anno oltre di lockdown dove non potevamo relazionarci direttamente con i cittadini e soprattutto dopo le notizie di questo impianto che dovrebbe essere prima autorizzato dalla provincia e poi realizzato nel comune di Vallefoglia ma nella frazione di Talacchio che è molto vicina alle nostre frazioni, abbiamo il dovere come amministratori di entrare in contatto con i cittadini e presentare il progetto e di cosa si parla. Chiaramente per noi è un altro lavoro che dopo tanti anni di discarica, poi di pianificazione e quindi di TMB avremmo volentieri evitato. Questo perché? Perché gli impianti sono sicuramente una importante risorsa per i territori per dare servizi ai cittadini e i cittadini stessi devono esserne consapevoli. Poi la localizzazione, questo è un po' il tema, è qualcosa che non ci trova sempre tutti d'accordo, però parlare di impianto come fino ad ora ne è stato parlato addirittura dalle minoranze dei consigli comunali dando informazioni veramente fuori luogo e hanno spaventato molto i cittadini. Tutto fa paura, è preoccupante e questo è chiaro ed è normale. Io vengo dall'esperienza di oltre 30 anni con una discarica alle spalle quindi so di cosa stiamo parlando. A Padiglione Daniele Tagliolini e Mauro Tiviroli, presidente e amministratore delegato di Marche Multiservizi, hanno illustrato il progetto alla presenza dell'esperto di ecologia Gian Umberto Ancinelli, dell'architetto Claudio Gaudenzi e del direttore tecnico di Green Factory Franco Macor. Ovviamente è possibile anche la critica ma credo che ci troviamo di fronte ad un impianto del tutto innocuo perché tratta esclusivamente i rifiuti degli scarti di cucina e quelli dei nostri giardini. Quindi non può essere dannoso né a salute né ad altre cose dell'uomo. Credo che ci siano tutti i presupposti per chi ha veramente intenzione di capire che cos'è l'economia circolare e cos'è il bene delle future generazioni perché se no continuiamo ad essere solo egoisti verso noi stessi continuando a macinare e consumare quello che i nostri genitori ci hanno costruito nel dopoguerra. Credo che il nostro dovere sia anche quello di pensare alle nuove generazioni così come ci insegna l'Europa con la Next Generation EU e come ci insegna anche l'agenda ONU.